Eccoci su Sicilia 24, ben ritrovati, nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di Cronaca partendo da Messina dove è stata sgominata un'associazione a delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione, al riciclaggio e all'estorsione nel rione Giostra. Vediamo il servizio. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal GIP su richiesta della locale procura nei confronti di 12 persone per associazione a delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione, al riciclaggio e all'estorsione. La complessa attività investigativa iniziata ad agosto del 2021 e condotta dagli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, ha consentito di individuare un agguerrito gruppo criminale operante nel notorione Giostra del capoluogo peloritano, dedito alla commissione di numerosissimi reati predatori. L'analisi delle risultanze investigative ha permesso la completa identificazione di tutti i membri del sodalizio criminale che in modo continuativo e metodico sono risultati dediti alla commissione di furti ed episodi di riciclaggio e ricettazione di autovetture ciclomotori, di pezzi meccanici, di carrozzeria riferibili a mezzi rubati, deplorevoli pratiche estorsive nei confronti delle numerose vittime, proponendo loro di pagare somme di denaro con l'implicita minaccia dove non avessero aderito di perdere definitivamente il mezzo rubato. L'attività svolta ha documentato un consolidato modus operandi consistente nell'esecuzione notturna dei furti, nel reperimento di parti di meccaniche e di carrozzeria di provenienza illecita rivenduti sul web a titolari di officine compiacenti. Nella proposta di riscatto al proprietario del mezzo rubato attraverso il meccanismo del cosiddetto cavallo di ritorno, nella successiva equa divisione dei profitti dell'attività illecita. Il gruppo godeva inoltre di un consolidato riconoscimento nel contesto territoriale messinese, allorquando un mezzo veniva rubato in una determinata zona infatti le persone offese o eventuali intermediari risultavano consapevoli di doversi loro rivolgere per il relativo tentativo di recupero. Le indagini hanno documentato consolidati rapporti con paritetici ambienti criminali catanesi. E sempre a Messina un 29enne è stato arrestato per spaccio di droga e lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Le volanti della polizia di Messina transitando lungo il viale San Martino hanno notato un uomo che alla vista dei poliziotti ha nascosto repentinamente qualcosa in tasca. Insospettiti da tale atteggiamento, gli agenti hanno proceduto all'identificazione e al controllo più approfondito del soggetto, un messinese di 29 anni il quale, con difficoltà, tentava di celare un evidente stato di nervosismo. A seguito di una prima perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto uno spinello integro e ancora spento. Alle specifiche domande del personale operante, l'uomo riferiva un falso indirizzo di residenza. Sospettando pertanto che potesse occultare altra sostanza stupefacente, le volanti si sono recati presso la sua vera abitazione, procedendo a una perquisizione che ha portato al rinvenimento di 14 involucri già preconfezionati di marijuana e 28 dosi di sostanza stupefacente risultata al successivo test un derivato purissimo della cocaina. Inoltre, nell'abitazione sono stati rinvenuti un bilancino di precisione perfettamente funzionante, materiale per il taglio e il successivo confezionamento della droga, nonché denaro verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Infine, sono state trovate anche tre banconote false. Nel corso della perquisizione, l'uomo ha tentato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti, i quali sono riusciti ad ammanettarlo subendo però alcune lievi lesioni. Il 29enne pertanto è stato arrestato per i reati di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato sottoposto ai domiciliari. La Messina a Catania, dove personale del commissariato Librino, ha effettuato controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere di competenza. A San Cristoforo, per la precisione al tondicello della playa, un soggetto attualmente sottoposto alla misura dei domiciliari, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, crack e cocaina. Il malvivente, inoltre, appartiene a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza ed è padre di figli minorenni, uno dei quali sottratto all'istruzione obbligatoria. Per tale motivo sono stati informati anche la Procura della Repubblica e il Tribunale dei Minori. Restiamo nella Catanese, un imprenditore agricolo sfruttava i suoi lavoratori facendoli lavorare per ore con una paga misera, alla fine gli stessi lavoratori lo hanno denunciato. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, supportati dai militari della compagnia di Paternò, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal GIP di Catania di applicazione della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività d'impresa per un anno nei confronti di un imprenditore di Ragalna di 56 anni, titolare di un'azienda agricola ritenuto responsabile di sfruttamento del lavoro ed estorsione in danno dei propri dipendenti. Le attività investigative hanno consentito di acquisire elementi tali da far ritenere che l'imprenditore, che nell'esercizio della propria azienda agricola impiegava quattro dipendenti stranieri di nazionalità marocchina, avrebbe impiegato gli stessi in condizioni di sfruttamento, corrispondendo loro una retribuzione irrisoria pari a solo 150-200 euro mensili, costringendoli a svolgere turni di lavoro estenuanti senza il riconoscimento di ferie, riposi settimanali e indennità accessorie e comunque in violazione di ogni regola in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. Inoltre, in più occasioni li avrebbe costretti a consegnargli i somme di denaro con il pretesto di doverli utilizzare per ottenere la loro regolarizzazione presso la locale prefettura, minacciandoli di licenziamento o di non inoltrare la predetta richiesta qualora tali somme gli fossero negate. L'indagine è scaturita dalla denuncia dei quattro cittadini marocchini dipendenti dell'imprenditore. Durante le perquisizioni sui terreni di pertinenza della citata azienda agricola, siti a Ramacca e Paternò, il personale operante ha individuato altri sei lavoratori, dei quali quattro in nero. Danneggia la colonnina di un rifornimento a Mister Bianco per arraffare il denaro. Ovviamente è stato arrestato. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile del comando provinciale, unitamente ai colleghi della tenenza di Mister Bianco, hanno arrestato un 44enne catanese in quanto gravemente indiziato di furto aggravato. I militari hanno ricevuto una segnalazione di un tentativo di furto in atto presso un'area di servizio di Mister Bianco e hanno subito effettuato un'ispezione presso il rifornimento indicato unitamente ai colleghi della tenenza di Mister Bianco, che hanno accertato il danneggiamento della cassa automatica e il furto di alcune banconote. I carabinieri si sono messi sulle tracce del presunto autore del furto, il quale si sarebbe allontanato a bordo di una Fiat Panda. Contemporaneamente alle attività di ricerca del fuggitivo, i militari della tenenza hanno proceduto alla disamina delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato nell'area di servizio, che ha consentito di avere elementi sia in relazione alle fattezze che all'abbigliamento dell'autore del furto. Poco più tardi, in via Palermo, è scattato l'alt per il 44enne mentre si trovava alla guida di una Fiat Panda, noleggiata presso un'ignara società di Mister Bianco e si dirigeva con fare disinvolto verso il centro città. I militari del radiomobile hanno sottoposto a controllo l'uomo e hanno avuto modo di verificare l'esatta corrispondenza con il soggetto intento al lavoro immortalato dalle telecamere del rifornimento. La perquisizione veicolare ha fornito ai carabinieri ulteriori riscontri utili in quanto sono state rinvenute due banconote da 10 euro, vistosamente maltrattate, ma anche diversi arnesi atti allo scasso celati in più punti dell'autovettura. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto disponendo la sottoposizione del 44enne ai domiciliari. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza un ordine di espiazione pena, giacché è condannato a scontare 6 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione presso una struttura carceraria. Nella circostanza la Procura Generale della Repubblica di Catania, a seguito di due distinte sentenze di condanna della Corte d'Appello, divenute definitive nei giorni scorsi per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre che per associazione finalizzata al traffico delle stesse ha ordinato la carcerazione dell'uomo che è stato pertanto portato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania. Ed ora invece parliamo di una tragedia avvenuta a Capaci nel Palermitano, dove un giovane di 25 anni è annegato mentre stava facendo una nuotata. La spiaggia era piena di bagnanti, ma nessuno purtroppo è riuscito a soccorrere e salvare il ragazzo, il quale probabilmente colto da un improvviso malore è poi deceduto. Le forze dell'ordine hanno ascoltato i presenti spiaggia per cercare di ricostruire la tragica vicenda. E un'altra tragedia invece è avvenuta a Custonaci, dove un operaio di 36 anni è morto in un incidente sul lavoro. L'uomo dipendente di una ditta per la lavorazione del marmo era alla guida di una gru che si è ribaltata. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Ed ora invece ci spostiamo a Palermo. Intascavano i fondi europei destinati alla ristrutturazione delle case popolari nel quartiere Zen. Tre funzionari dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo sono stati arrestati. I carabinieri di Palermo hanno dato esecuzione a tre provvedimenti cautelari degli arresti domiciliari emessi dall'ufficio GIP del Tribunale di Palermo sulla base delle risultanze investigative emerse nel corso dell'indagine coordinata dai procuratori europei delegati di Palermo per le ipotesi di reato di induzione in debita a dare o promettere utilità. L'indagine condotta dai militari della sezione EPPO del Nucleo Investigativo di Palermo tra ottobre e dicembre 2021 ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario che è stato sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare in cui si contesta la presunta esistenza di un unitario centro di interessi illeciti radicato all'interno degli uffici dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo formato da professionisti privati e pubblici ufficiali con competenze in materia edilizia e incaricati della gestione dei fondi di spesa pubblici nazionali ed europei. Secondo l'ipotesi accusatoria i pubblici ufficiali coinvolti in forza della loro mansione all'interno dei singoli procedimenti in carico all'Istituto Autonomo Case Popolari sarebbero stati in grado di appropriarsi di una parte delle somme di denaro destinate all'esecuzione di lavori, in realtà poi eseguiti solo sulla carta, carpendo la compiacenza degli imprenditori agiudicatari dei lavori per introdurli poi in un sistema concursivo ambientale finalizzato all'ottenimento di vantaggi patrimoniali in debiti in danno del buon esito di progetti di edilizia pubblica cofinanziati dall'Unione Europea. L'attività investigativa è stata focalizzata in particolare su un progetto di realizzazione di opere di risanamento e manutenzione di edifici di pubblica utilità ubicati nel quartiere Zen della città di Palermo, per cui era stato previsto uno stanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro. Tali opere rientrano nell'ambito del progetto RUIS-Palermo, implementato dalla copertura economica del Fondo Europeo per lo sviluppo e la coesione. L'indagine odierna costituisce in assoluto e in campo nazionale la prima operazione dell'arma dei carabinieri coordinata dall'ufficio della Procura Europea. Da Palermo a Siracusa dove la polizia ha arrestato due persone, vediamo perché. Agenti della squadra mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura presso la Corte di Appello di Catania nei confronti di un uomo di 46 anni riconosciuto colpevole del reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti commesso nel 2016 a Siracusa e a Napoli. Il 46enne dovrà scontare la pena residua di sette anni e quattro mesi di reclusione, le pene accessorie del ritiro della patente di guida per due anni, il divieto di espatrio per due anni, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale durante la pena, nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni. Dopo le incombenze di rito, l'uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione. Sempre a Siracusa, agenti delle volanti hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46 anni. L'uomo, sottoposto all'obbligo di dimora con divieto di avvicinamento alla parte offesa ma incurante della citata misura restrittiva, ha assunto un atteggiamento fortemente violento nei confronti dell'ex compagna, picchiandola per l'ennesima volta tanto da rendere necessario l'aggravamento della pena. Pertanto è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Cavadonna. L'ite con accoltellamento denunciato un 26enne a Triscina. I carabinieri della stazione di Marinella di Serinunte hanno denunciato un giovane castelvetranese di 26 anni per il reato di lesioni personali aggravate. I militari impegnati in un normale servizio di perlustrazione sono stati chiamati a intervenire a Triscina, frazione di Castelvetrano, per una lite avvenuta per futili motivi tra due soggetti a casa della vittima, la quale sarebbe stata colpita al volto dal suo aggressore con un coltello da cucina. Giunti sul posto, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda tramite le testimonianze dei presenti. Sequestrato il coltello, assicurate le cure del caso alla vittima, i militari si sono messi sulle tracce del 26enne, che nel frattempo si era dato alla fuga. Il giovane, compagno della figlia della vittima, è stato rintracciato poco dopo dagli uomini dell'arma che lo hanno accompagnato presso gli uffici della stazione Carabinieri e lo hanno deferito all'autorità giudiziaria, mentre la 49enne è stato riscontrato affetto da sindrome coronarica con trauma toracico e ferite lacero contuse multiple da aggressione tramite arma da taglio, rimediando 30 giorni di prognosi. I carabinieri della stazione di Francofonte hanno arrestato un 35enne del posto per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre. Il giovane era già stato arrestato a fine giugno per gli stessi motivi e tradotto al carcere di Cavadonna, ma una volta rilasciato si è recato nuovamente a casa della madre dove ha cercato di aprire con calcio e pugni il portone d'ingresso senza però riuscirci e ha rivolto alla donna parole offensive e minacciose. I carabinieri, allertati dalla vittima, si sono recati sul posto e hanno arrestato l'uomo come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. Ed ora invece l'hanno una notizia da Trapani dove è stato arrestato un malvivente che aveva rapinato una coppia in strada. Vediamo il servizio. Gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 24enne trapanese presunto autore di una rapina commessa ai danni di due coniugi consumata lungo la via Fardella. Il giovane aveva avvicinato la coppia composta da un 68enne e una 64enne e con la scusa di chiedere delle informazioni aveva afferrato con un gesto repentino la borsa della signora che nell'attentativo di trattenere l'oggetto era stata scaraventata violentemente a terra. Analoga sorte era toccata al marito finito al suolo nel tentativo di dare ausilio alla consorte. Il malvivente si era poi dileguato abbandonando in seguito la borsa dopo aver prelevato all'interno il portafogli. I due coniugi in conseguenza dell'evento erano stati costretti a ricorrere alle cure mediche e la donna aveva riportato la frattura di un arto. Gli agenti della polizia di stato dopo un'accurata visione e comparazione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona con quelle degli archivi di polizia hanno individuato il presunto rapinatore riconosciuto poi da entrambe le vittime. Al termine degli accertamenti il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di rapina aggravata e condotto in carcere. Ed ora vediamo i dati dell'ultimo bollettino covid sono 6.236, i nuovi casi registrati in Sicilia a fronte di 29.737 tamponi processati, tasso di positività al 21% e Sicilia al sesto posto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono 161.279, i guariti invece 6.807, mentre si registrano altre 26 vittime che portano il totale dei decessi a 11.480. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.027, 52 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva invece sono 47, esattamente come nel giorno prima. A livello provinciale si registrano a Catania 1.632 nuovi casi, Palermo 1.566, Messina 932 e poi le altre province con dati decisamente più bassi. E con il bollettino covid chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma ovviamente l'informazione prosegue su Sicilia 24. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS